Dati positivi per l'export regionale. Sono cresciute nel 2016, per il settimo anno consecutivo, le esportazioni dell'Emilia-Romagna. È quanto emerge dai dati del 31esimo rapporto ICE, l'Italia nell'economia internazionale, secondo cui l'andamento viene confermato anche nei primi tre mesi del 2017. Lo scorso anno le esportazioni regionali hanno superato quota 56 miliardi di euro, con una crescita dell'1,5% superiore alla media nazionale. Dal lato delle importazioni, la regione ha registrato un aumento rispetto al 2015 del 3,3%, in controtendenza rispetto alla media nazionale del 1,3% in negativo. Le esportazioni sono trainate dalla meccanica e dell'automotive, seguite da quelle di prodotti alimentari, bevande e tabacco, della sistema moda e dei prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi. In controtendenza invece i mobili. Infine si segnala l'impennata delle esportazioni dei prodotti della metallurgia che registrano una crescita di quasi il 29%. Guardando ai mercati, il flusso delle esportazioni emiliano-romagnole verso l'Unione Europea sono cresciuti del 5,7%. Tra i paesi extra UE le esportazioni verso gli Stati Uniti hanno registrato invece un calo del 9,4% e un incremento invece dell'1,5% verso la Russia, mentre in Cina l'export regionale è salito. Nel 2016 Rimini si è dimostrata la più dinamica per variazione delle esportazioni, seguita da Piacenza e Forlì e Cesena. In calo invece rispetto al 2015 le esportazioni da Ferrara, Ravenna e Parma.